Altri 1200 sbarchi nelle ultime ore, la Liga Nord chiede che l'operazione Mare Nostrum finisca in soffitta. Per forza, perché più che Mare Nostrum sono soldi nostri questi. Il ministro Alfano, attraverso questa operazione, il governo di centro-sinistra ha deciso di andare e di invitare gli immigrati in questo paese. Noi pensiamo invece che non ci sia posto per nessun altro immigrato in questo paese e ci sia un'unica soluzione per fermare il flusso immigratorio. Cioè quella dei rispingimenti esattamente come faceva il ministro dell'interno Roberto Maroni quando noi eravamo al governo. Si parla di circa 9 milioni di euro alla mese. Secondo voi questi soldi come dovrebbero essere utilizzati invece? Ma noi abbiamo fatto un conto spannometrico rispetto ai soldi che il governo di centro-sinistra, Matteo Renzi e Alfano utilizzano e spendono per gli immigrati. Sono circa 10 miliardi di euro all'anno. Per noi questi 10 miliardi di euro all'anno vanno cancellati e appostati per abbassare le tasse ad imprese e famiglie. Quello è quello di cui ha bisogno questo paese, non certo di nuovi immigrati, visto che non abbiamo neanche un posto di lavoro per noi, figuriamoci per loro.